Tragico incidente nella tarda mattinata di ieri sulla SP 184, strada panoramica che costeggia la Baia di Agropoli. A perdere la vita un 33enne originario della provincia di Latina ma residente da anni ad Agropoli. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Un impatto violento che si è rivelato fatale per il 33enne, soccorso dal 118 pochi minuti dopo ma già apparso in condizioni disperate. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. Una tragedia sulla quale è intervenuto anche il sindaco Adamo Coppola. Con animo affranto ha scritto su Facebook il primo cittadino esprimo profondo cordoglio alla famiglia di Emilio Secci per la tragedia di oggi.